Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio e a chi crede. Domenica scorsa abbiamo continuato a parlare sul nostro tema dell'iddio dei miracoli che stiamo servendo e ci sentiamo onorati per questo. In modo particolare abbiamo parlato che la Chiesa deve muoversi nel miracoloso e nel soprannaturale, per non diventare un'altra religione. Perché se la Chiesa, come abbiamo detto, non si muove nel soprannaturale, se non si muove nel miracolo e nei miracoli diventa una qualsiasi altra religione. Molti ci vorrebbero far credere che Gesù è stato un bravo uomo, è stato un uomo molto sapiente, saggio, un filosofo molto profondo in quello che diceva, ma pensando in questa maniera si va a diminuire quello che in realtà lui era. Lui è Dio, lui è il figlio di Dio e lui è venuto per uno scopo ben preciso, dare la sua vita per noi. Infatti se voi leggete nei Vangeli e vi incoraggio a leggerli, Gesù è stato caratterizzato da miracoli nella sua vita. Amen. La sua vita lui si muoveva costantemente nel miracoloso e nel soprannaturale. Abbiamo anche approfondito quel verso, quella scrittura dove si parla di Giovanni Battista, dove chiede ai suoi discepoli, quindi Giovanni chiede ai discepoli di andare a dire a Gesù se lui fosse il Messia o se ne aspettava un altro che doveva arrivare. E Gesù ha detto, in quel momento non ha detto niente, ma ha dimostrato. A me ne ha detto, date a dire a Giovanni Battista quello che voi vedete e udite, perché in quel momento operò miracoli e quindi ci furono sordi che sentivano, ciechi che vedevano, zoppi che camminavano e così via. Andate a riferire a Giovanni Battista quello che i vostri occhi vedono e le vostre orecchie hanno ascoltato. Come per dire, se lui aveva un dubbio, se io fossi il Messia oppure no, questo vi dà conferma. E la Chiesa, sapete, deve svegliarsi sotto questo aspetto perché ogni credente, ognuno di noi siamo chiamati da Dio a muoverci nei miracoli. Perché se no siamo abusivi, siamo cristiani abusivi. Una me, non riesce? Già seduti in crisi. Ma è una realtà. Noi dobbiamo credere, perché il problema è l'incredulità, e non credere nei miracoli. E quindi dobbiamo agire in questo modo, pensare come Gesù la pensava, perché se no siamo, ripeto, cristiani abusivi. Non siamo degni di portare questo nome, perché ci dobbiamo, e dobbiamo vivere come ha vissuto il nostro Maestro Gesù. Amen. Oltre la vita di consagrazione, arresa, che stasera non è il nostro tema questo, ma una vita miracolosa. Amen. Quando un dottore della legge venne da Gesù di notte e aveva paura di farsi riconoscere, perciò andò da Gesù di notte, vi ricordate chi era? Nicodemo. Cosa gli ha detto? Non so se voi avete afferrato quello che gli ha detto. Ha detto che nessuno può fare le opere che tu fai dicendo a Gesù se Dio non è con te. Gli ebrei avevano molto chiarezza riguardante questa realtà. Dio è con te e si vede attraverso i miracoli che compi, attraverso la tua vita. Perciò a volte noi andiamo in crisi, ma ci è bisogno di uno scuotimento nella nostra vita. Perché non vogliamo essere semplicemente dei religiosi che riscaldiamo una sedia in chiesa, ma vogliamo muoverci nel livello soprannaturale dove Dio ci dice di muoverci. Amen. Quindi non fermare tutto il nostro cristianesimo che riguarda le nostre attività di culto, quelle tre ore, quattro ore a settimana, quindi tra il giovedì e la domenica, e finisce tutto lì, ma ricordati che la giornata è fatta di 24 ore, in un giorno e così via. Amen. E noi dobbiamo essere cristiani a tempo pieno, non cristiani quando andiamo in chiesa. Perché qui naturalmente ci conosciamo, ci sappiamo chi siamo, però fuori là non ci conoscono e dobbiamo mostrare chi siamo. Amen. E quindi uno dei mezzi che Dio ci può usare attraverso il miracoloso. Quindi io voglio stronarti e incoraggiarti ad aprirti ai miracoli. Amen. A volte le persone dicono ma io ho pregato, non è successo niente, ma tu forse hai pensato perché tu fai i miracoli, ma non sei tu che fai i miracoli, è Dio che fa i miracoli. Tu devi soltanto ubbidire quello che Lui ci ha detto e anche il suo mandato che ci ha trasmesso. Amen. Quindi la Chiesa deve muoversi nel miracoloso, perché il miracoloso è la volontà di Dio. E stasera continueremo a parlare per quanto riguarda i miracoli, di sicuro, ma l'ultima parte che noi naturalmente abbiamo trattato riguardante la motivazione che ha motivato Gesù nel compiere miracoli, Dio opera miracoli, e sapete perché lo fa? Perché ti ama. Amen. Non puoi aggiungere niente altro a questo, ma è il suo amore che lo spinge a manifestare miracoli nella nostra vita. Domenica abbiamo fatto un po' tardi, non mi siano proprio reso conto dell'orario, abbiamo sforato, ma c'era una così potente presenza di Dio che io qualcuno mi parlava, ma io stavo tutto in zalla nuda, detto alla napoletana per comprenderci, ero proprio in un'atmosfera soprannaturale, e quindi abbiamo sforato, e mi è dispiaciuto per questo, però era così forte la presenza di Dio che veramente a un certo punto non mi sono reso conto dell'orario e di quello che stava succedendo a livello dell'ora. Stasera continueremo in questa direzione, finiremo in orario, non vi preoccupate. Quindi voglio farvi una domanda, voi qui presenti e quelli che siete a casa, quanti di voi avete bisogno di ricevere un miracolo? Nella vostra vita personale? Nella vostra anima? Nella vostra famiglia? Nel vostro lavoro? Amen. Quanti di voi ne avete bisogno? Alleluia. Quindi se puoi dillo alla persona accanto a te ti trovi nel posto giusto. Stasera per ricevere il tuo miracolo. Amen. Ora i miracoli, sapete, sono la combinazione di alcune realtà che si uniscono insieme. Ingredienti unti che stanno insieme. I miracoli succedono quando il popolo ha delle aspettative. Se tu non ti aspetti niente, niente succede. Quindi vuoto sei venuto e vuoto te ne esci. Ma quando tu vieni in questa casa, in questa chiesa, devi venire con alte aspettative per ricevere una parola dal cielo, per ricevere un miracolo nella tua vita. Amen. E questo è molto importante, avere le aspettative alte. Questo è il primo ingrediente. Un altro ingrediente che i miracoli succedono quando c'è un'atmosfera di miracoli o miracolosa. Amen. Io spesso esorto il team della Lode a rompere quella barriera, a rompere quel momento di staticità che in un culto c'è. Perché? Perché bisogna penetrare in una dimensione soprannaturale. E attraverso la Lode, attraverso l'adorazione, quindi il canto, dove la chiesa non è semplicemente presente per essere uno spettatore, ma deve essere coinvolto come un protagonista. Allora si incomincia a rompere quella barriera e si incominciano ad aprire i cieli sul nostro mezzo e nella nostra vita. Amen. Quindi si cambia l'atmosfera. Quindi stasera alza le tue aspettative, abbiamo detto, in tre direzioni molto importanti. La prima vuole essere quella dell'unzione. Amen. L'unzione di Dio è presente per compiere miracoli, come è scritto nel libro del profeta Esaia, che l'unzione si manifesta per spezzare il gioco e per manifestare la potenza di Dio. Poi anche un'altra realtà dove dobbiamo alzare le nostre aspettative è sul manto della persona, del ministro che vi sta parlando. Perché ricordate una cosa molto importante, una cosa che impedisce al ricevere è la mancanza di onore. E mancanza di onore significa non avere, non onorare, rispettare, credere la parola da colui che vi viene amministrata. a volte le aspettative verso gli altri e altre persone sono più alte, perciò Dio si muove in un modo più evidente, ma questo è molto importante perché se state qui e voi non vi aspettate niente da questo manto, ripeto, voi uscirete vuoti come siete venuti. Amen. Ma quando ne alziamo invece l'aspettativa dell'onore Dio si può manifestare. La terza cosa i miracoli succedono anche sulla presenza di Dio, questo è molto importante, quindi sia sull'unzione, sul manto che sulla presenza di Dio. E la terza cosa i miracoli succedono quando c'è un punto di contatto. Sapete, la Bibbia parla su questo, stasera non approfondiremo su questo, perché i miracoli hanno la necessità di avere un punto di contatto. Gesù quando lui ministrava la parola poteva farlo, ministrava attraverso l'imposizione delle mani, ma ci sono stati altri momenti che lui rilasciava la parola e quando la parola veniva rilasciata questa parola creava nel mondo spirituale determinate realtà e determinate cose e le moltitudini venivano guarite. Amen. e parlavo del punto di contatto se ricordate naturalmente è successo anche con gli apostoli l'apostolo Paolo quello che si metteva su di lui lo prendevano e lo mettevano su gli ammalati in atti nel capitolo 19 è scritto questo gli asciugatori i vestiti che erano stati su di lui poi li prendevano li portavano sulle persone ammalate e queste persone quando li poggiavano su di loro ricevevano miracoli soprannaturali questa naturalmente è un'altra cosa molto importante anche per chi mi sta ascoltando a casa bisogna creare un punto di contatto con la parola che sta venendo ministrata affinché tu puoi accedere puoi ricevere quello che Dio vuole che tu ricevi cioè il tuo miracolo amén quindi i miracoli devono essere afferrati dillo afferrati non devi essere superficiale indifferente se mi vuoi guarire mi guarisci se non mi vuoi guarire non mi guarisci c'è indifferenza in questo tu lo devi devi essere aggressivo devi afferrare il tuo miracolo dillo afferrati amén Giovanni quindi i miracoli dicevo devono essere afferrati non bisogna che ci sia indifferenza i miracoli succedono in un modo istantaneo ci sei per questo motivo un'atmosfera profetica non è adatta per ricevere i miracoli istantanei perché l'atmosfera profetica proietta nel futuro quello che noi dobbiamo ricevere parole profetiche di quello che Dio farà un giorno nella mia vita se voi ricordate Giovanni il Battista gli viene chiamato la voce che grida nel deserto Giovanni parlava di quello che lui era profeta parlava di quello che stava per succedere stava per avvenire perché il suo tempo la sua vita era semplicemente di transizione lui annunciava quello che stava per succedere cioè annunziava il Cristo che quando sarebbe venuto lui avrebbe compiuto l'opera di Dio infatti è scritto in Giovanni nel capitolo in Matteo scusate nel capitolo 3 il verso 1 ora in quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava che in realtà lui profetizzava nel deserto della Giudea di chi e di cosa profetizzava di quello che Gesù avrebbe poi successivamente fatto perciò c'è differenza di atmosfera c'è differenza di unzione che noi dobbiamo comprendere questa realtà un'atmosfera profetica proietta nel futuro domani ti parla in quella direzione riceverò il mio miracolo cose che dovranno avvenire ma quando invece c'è il miracoloso Dio non lo vuole fare domani Dio lo vuole fare oggi Dio lo vuole fare stasera Dio stasera nella tua vita vuole compiere miracoli ci sono persone che avete bisogno di avere una famiglia trasformata la vostra vita trasformata il vostro coniuge è cambiato marito moglie che sia amen attivate il miracolo in questo momento attraverso la vostra fede ci sono persone che hanno delle infermità nei loro corpi malattie che si portano dietro da tanto tempo anche malattie che comunque sono state diagnosticate dai medici e ti hanno detto tu non guarirai mai da questa malattia tu cosa hai risposto hai ragione nel nome di Gesù io non mi accolgo questa realtà il diabete nel nome di Gesù lo mandiamo malmittente lo rifiutiamo se c'è qualcuno che soffre di diabete sappi che Gesù già l'ha pagato sulla croce per te tu non devi vivere per tutto il resto della tua vita con questo diabete amen lui già ha ottenuto guarigione per te quindi i miracoli abbiamo detto essendo istantanei dillo istantanei quando arrivano devi afferrarli non devi perdere quest'unzione dio mi ha detto di predicare di insegnare su questo sapete per quale motivo perché dio avrebbe manifestato questo tipo di unzione miracolosa e quando arrivano li devi prendere li devi afferrare nella tua vita nel nome di Gesù non puoi tralasciarli perché è come se il treno che passa si passa su treno l'hai persa hai perso un'opportunità quindi in questo modo essendo istantanei è il tempo dei miracoli dillo è il tempo dei miracoli non devo aspettare domani li ricevo adesso io non farò passare il mio treno io l'afferrerò nel nome di Gesù e non gli permetterò di andare via ma di passare oltre ma lo riceverò nel nome di Gesù amén quindi siete pronti ad afferrare il vostro miracolo siete pronti ad afferrare il treno che sta passando amén ora la Bibbia ci insegna e questa è una delle cose meravigliose che dobbiamo conoscere sapete quando la Bibbia ci parla dei nomi di Dio dei nomi di Gesù hanno un significato su particolare amén il significato dei nomi soprattutto ha a che fare con il carattere di quello che Dio è e di come Dio si vuole manifestare ci sono all'incirca 300 nomi di Dio nella Bibbia che lui si è rivelato in quel modo in quella maniera e significa che lui ha a che fare con il suo carattere c'è qualcosa che lui vuole fare per noi in noi e attraverso di noi uno dei nomi di Gesù sapete qual è? è amabile dillo amabile il nome amabile dalla parola greca è Pelè no Pelè Pelè e ha due significati questa parola il primo significa miracolo o miracoloso e il secondo significa impossibile ora io ho trovato in una nuova Diodati Isaia capitolo 9 il verso 5 dove non spiega tanto bene questa realtà ma la vecchia Diodati sottolinea su quelli che come lui viene chiamato quindi Isaia 9 5 leggo dalla vecchia Diodati infatti c'è scritto perciò che il fanciullo ci è nato e il figliolo ci è stato dato e l'impero è stato posto sulle sue spalle il suo nome sarà chiamato l'amabile il consigliere l'iddio forte il padre eterno il principio della pace amén quindi vi ho letto direttamente la Diodati sarà chiamato come quando dice l'amabile sarà chiamato l'iddio dei miracoli e si riferisce a Gesù cari amén sarà chiamato l'iddio dell'impossibile lui è l'iddio delle cose impossibili perciò tutte le tue impossibilità portate a livello della presenza di Dio diventano possibili amén in altre parole cosa sta dicendo questo verso lui ti dice quando incontri un'impossibilità Dio ti sta dicendo Gesù ti sta dicendo ricordati del mio nome io sono l'iddio dell'impossibile io sono l'iddio dei miracoli Pelé Dillo Pelé amén lui è l'iddio dell'impossibile e dei miracoli ora se ti trovi in una circostanza difficile o se ti trovi in una circostanza che non ti sei mai trovato prima complicata difficile particolare forse nella tua vita personale nella tua famiglia probabilmente nel tuo lavoro i tempi sono quelli che sono e quello che stiamo vivendo voglio ricordarti una cosa che il tuo Dio è l'iddio dell'impossibile non te lo devi dimenticare Pelé dall'ebraico Pelé l'iddio dell'impossibile amabile l'iddio dei miracoli quindi fai una dichiarazione di fede Gesù tu sei l'iddio dell'impossibile Gesù tu sei l'iddio dei miracoli amén quando incontri le impossibilità degli uomini in questo caso in Cristo in Gesù puoi scoprire questa realtà incontri le impossibilità degli uomini non ci riesco non ce la faccio è troppo difficile li scopri li scopri è lì è il momento che si manifestano miracoli nella tua vita perché incontri l'iddio dell'impossibile perché incontri Gesù come l'iddio dei miracoli amén quindi con le sue possibilità per te non ci sarà niente di impossibile ora ascoltami bene due cose devi tenere presente nella tua vita quando ti trovi in un'impossibilità quando ti trovi in una circostanza impossibile che stai vivendo nella tua vita abbiamo detto una cosa cosa abbiamo detto abbiamo bisogno di un miracolo c'è un'impossibilità c'è qualcosa di impossibile che sto vivendo ho bisogno di un miracolo c'è un'impossibilità nella tua vita c'è una circostanza impossibile che stai vivendo alleluia non ti deprimere non ti abbattere non ti scoraggiare hai bisogno di un miracolo è lui Gesù l'amabile è l'iddio dei miracoli Gesù l'amabile è l'iddio dell'impossibile amén quindi non ti trovi fuori 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 zona ti trovi nel posto giusto per ricevere un miracolo e stavo dicendo quando avviene un miracolo quando ci troviamo nelle circostanze impossibili se tutto va bene non abbiamo bisogno di vedere miracoli o di ricevere miracoli ma quando le cose sono impossibili e viviamo circostanze impossibili abbiamo bisogno di ricevere un miracolo e Dio è pronto lì per farlo amén lui non lo devi convincere che lo faccia molti religiosi cosa fanno vogliono convincere Dio a fare i miracoli perdete tempo perché Dio è è è super convinto cioè non è solo convinto lui ti dice già l'ho fatto lo devi solo prendere lo devi solo ottenere e tanti con atteggiamento religioso le preghiere quali sono preghiamo che Dio lo guarisca Gesù già se le portate sulla croce allora Spirito Santo dammi un'opportunità di condividere un messaggio dove la speranza e la fede delle persone possa essere alzata a volte vedono i gruppi che noi abbiamo anche preghiamo c'è questa persona che sta male preghiamo che Dio lo guarisca e gli dici mamma mia ancora che si stanno cioè Gesù la guarite già duemila anni fa bisogna diglielo alle persone che stanno in questa condizione vai a prenderti quello che Gesù già ha ottenuto per te sai ma quella cosa è impossibile non ti preoccupare stai nel posto giusto per ricevere il tuo miracolo perché lui è l'amabile l'iddio dell'impossibile attiva la tua fede e incomincia a credere quindi ascoltatemi bene quando avviene un miracolo quando ci troviamo in una circostanza impossibile o una circostanza molto difficile quando ci troviamo di fronte a delle impossibilità cosa fanno queste situazioni nella nostra vita sapete queste situazioni creano almeno due cose dentro di noi la prima cosa è questo che vediamo di fronte a una circostanza difficile di fronte a un'impossibilità vedi vedi l'odio di Satana nei tuoi confronti vedi a lui che non ti sopporta ci sei? quindi la prima cosa che tu riesci a vedere è questo che dal diavolo non sei amato è la prima domanda che ci dovremmo porre è questa tu pensi che Dio pensi che è la sua volontà che ci lascerà nelle mani del suo nemico e del nostro nemico perché ti sto dicendo questo? perché molti pensano che Dio manda le malattie che Dio fa succedere disastri è una grande menzogna in quella circostanza che stai vivendo in quella impossibilità che stai vivendo vedi l'odio di Satana nei tuoi confronti è la prima cosa che puoi vedere e ti viene rivelata e significa che il nemico cercherà di portarci sempre in un luogo dove non ci sarà più speranza per noi questo è quello che ha le sue intenzioni prima cosa la seconda cosa le situazioni dell'impossibilità cosa vogliono fare? Vogliono indurci ad accusare Dio per quello che sta succedendo perché Signore non fai niente perché Dio non intervieni in altre parole vogliono indurti a dare la colpa a Dio delle impossibilità che stai vivendo delle situazioni impossibili che stai vivendo ora in queste circostanze in queste impossibilità ascoltatemi ci sono un'attività diabolica in atto ci sono tanti demoni che stanno lavorando contro di te non è Dio che sta lavorando contro di te queste situazioni ti stanno rivelando l'odio che c'è nei tuoi confronti da un lato situazioni contro odio nei tuoi confronti ma dall'altra parte dal lato di Dio lui ti rivela e ti vuole rivelare la sua grande misericordia è il suo grande amore che ha per te che ha nei tuoi confronti infatti i miracoli cosa sono il risultato del grande amore di Dio verso di noi Dio ti ama è la motivazione che lui ti dà soluzioni alle tue impossibilità alle situazioni impossibili che vive è per mezzo del suo grande amore dichiaralo stasera Dio non mi lascerà mai mio padre papà abba non mi lascerà mai nelle mani del mio nemico ma lui mi tirerà fuori da qualsiasi circostanza che sto vivendo perché mi ama dillo perché sono grandemente amato tutti i miracoli che Gesù ha compiuto sapete da che cosa sono stati motivati dal suo amore dalla sua compassione amen compassione e misericordia sono due parole due aspetti dell'amore di Dio dillo compassione e misericordia cosa è la misericordia la misericordia è l'abilità di dimostrare compassione se in te non c'è l'amore di Dio tu non avrai l'abilità di dimostrare compassioni alle persone cos'è la compassione è l'abilità di identificarsi con le sofferenze altrui vedi un cieco l'abilità di identificarti il dolore di un cieco diventa il tuo dolore il dolore di uno zoppo diventa il tuo dolore in altre parole ogni circostanza difficile impossibile nella nostra vita cosa fa rivela praticamente la sua misericordia verso di noi che è un aspetto del suo grande amore in Matteo nel capitolo 20 il verso 34 vediamo Gesù che si identifica con le sofferenze delle persone che sono lì presenti e dice così è Gesù mosso nella nostra versione dice a pietà ma non è la parola pietà è la parola compassione Gesù mosso a compassione dillo mosso a compassione toccò i loro occhi c'erano due ciechi compassione e soffrire con chi soffre e Gesù mosso a compassione stava soffrendo della stessa sofferenza di questi due ciechi quando succede un miracolo nella tua vita cosa vedi vedi Gesù che non fa il capriccioso ma che lui si muove identificandosi pienamente nel tuo bisogno oltre a quello che Gesù ha compiuto e ha sofferto per poterlo compiere sulla croce lui cosa fa se tu hai una sofferenza lì prova compassione per te identificandosi pienamente con il tuo bisogno con la tua necessità e Gesù mosso a pietà mosso a compassione abbiamo detto toccò i loro occhi e cosa dice subito dopo è all'istante i loro occhi recuperarono la vista e lo seguirono stasera hai bisogno di afferrare questa rivelazione cari il mondo che ci sta attorno a noi come scritto nell'epistola ai romani aspetta la manifestazione dei figli di Dio non aspetta che i figli di Dio vivano nell'ansia e nella paura in questo modo non potremo essere di nessun aiuto per le persone ma aspettano che cosa la manifestazione aspetta che tu ti manifesti come ti manifesti come figlio della luce come figlio dell'iddio dell'impossibile come figlio dell'iddio dei miracoli come figlio dell'amabile amén afferra questa rivelazione in questo verso perché ci aiuterà tantissimo quando noi ci troveremo davanti alle persone nel momento in cui abbiamo compassione per le persone sapete che succede nel momento in cui tu ti identifichi con il bisogno di quella persona succede quello che successe nella vita di Gesù che cosa la potenza di Dio viene rivelata e viene manifestata e Gesù mosso a compassione toccò i loro occhi e all'istante si manifesta qualcosa la potenza di Dio i loro occhi recuperarono la vista e lo seguirono nel momento in cui abbiamo compassione per le persone viene rilasciata la potenza di Dio attraverso di noi nella vita delle persone quando non abbiamo compassione sapete cosa è successo siamo diventati dei professionisti ci siamo imparati una storia a memoria e poi ci chiediamo perché Dio non mi usa nel miracolo perché non succedono miracoli attraverso la mia vita questo è il livello dove Dio ti vuole portare a sperimentare le sue compassioni a identificarti con il bisogno degli altri questo tra virgolette è quello che fa un intercessore questo tra virgolette è quello che fa un sacerdote prende i bisogni della terra e li presenta nel cielo prende le risorse del cielo qui ci sono compassioni e li porta sulla terra Gesù guarì questi due ciechi perché? perché sperimentò le compassioni e le compassioni attivarono la potenza di Dio nella sua vita oggi oggi la chiesa purtroppo cari ha perso la compassione ma Dio ci vuole riportare a questo livello perché c'è un livello di potenza che Dio sta riberando e riversando sulla chiesa lo sapete perché? perché Dio sta rivelando e sta riversando un livello maggiore del suo amore nella sua chiesa tu hai bisogno di essere invaso dal suo amore di essere completamente riempito dal suo grande amore se vuoi muoverti nel miracoloso perché sapete per noi qui succedono varie cose io ricevo sono benedetto ma non può essere che tutto si ferma a me in Israele c'è il mar morto già ve l'ho detto in altre occasioni perché si chiama mar morto perché non c'è vita non ci sono pesci all'interno che vivono perché quel mare è il 33% più salato di qualsiasi altro mare ha un ingresso ma non ha un'uscita noi abbiamo fatto il bagno del mar morto a me piace tantissimo tu puoi galleggiare senza poi ti puoi sedere sul là è tutto salato è una bella sensazione è una bella esperienza ma ci deve far riflettere su un'altra cosa a volte sono così tanti cristiani semplicemente perché riceviamo viene al culto ricevi la parola Dio ministra nella tua vita ma se tu non la dai agli altri se tu non incoraggi gli altri se tu non operi nei miracoli a favore degli altri cosa succede? tutto si ferma con te e a te e come il man morto è diventato il man morto pure tu diventi un cristiano morto perché c'ha un ingresso riceve ma non c'ha un'uscita non dà stasera devi riflettere se vuoi muoverti nel miracoloso devi iniziare a provare le compassioni per gli altri a identificarti con il bisogno e le necessità delle persone sapete che significa? che devi sentirti come si sentono loro un cieco cieco un sordo sordo uno zoppo zoppo Gesù guarì questi ciechi attraverso le sue compassioni Gesù guarisce sapete tutta la Bibbia è un libro di miracoli se lo vogliamo definire libro ma dalla Genesi all'Apocalisse 66 libri all'interno della Bibbia ci sono miracoli in continuazione perché il nostro Dio perché il tuo Dio è il Dio dei miracoli grazie a tutti 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 grazie a tutti